Regione Toscana, il consiglio regionale. Un minuto di silenzio durante l'ultima seduta del consiglio regionale per i 117 bambini morti dall'inizio del conflitto in Ucraina e per tutte le vittime di questa guerra. A volerlo il presidente del parlamentino della Toscana, Antonio Mazzeo, che ha dichiarato come al 27esimo giorno di guerra il bilancio sia drammatico. Una scelta che ho fortemente voluto per ricordare i 117 bimbi che purtroppo sono morti, uccisi da questa atroce guerra e un modo con cui abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime della guerra. Oggi è stata una giornata particolare con le camere riunite, il presidente dell'Ucraina Zelensky che ha raccontato la resistenza del popolo ucraino e questa è una battaglia per la libertà, la democrazia dei valori della nostra Europa. È evidente che le parole arrivate oggi dal presidente Zelensky sono molto forti, ha paragonato Mariupol a Genova, 400.000 abitanti, l'80% della città distrutta e oggi gli ultimi attacchi terribili anche nell'unico luogo di cultura rimasto intatto dove andavano a trovare la salvezza donne e bambini. Il minuto di silenzio è un messaggio forte che noi vogliamo mandare e chiediamo che presto possa finire questa guerra e che si ritrovi la pace. Noi come Toscana stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per accogliere i profughi ucraini. Guardate, ogni mattina per venire al lavoro passo sotto la questura di Pisa e vedo tante donne, tanti bimbi, lo sguardo spento. Ecco, io mi auguro che noi non solo possiamo accoglierli, possiamo includere ciascuno di loro e farli sentire a casa propria, sperando che quel sorriso spezzato da questa atroce guerra possa tornare a splendere più forte di prima. Il Consiglio regionale della Toscana nell'ultima seduta ha approvato a maggioranza la prima variazione di bilancio di previsione 2022-2024 di Regione Toscana, con 23 voti favorevoli e 11 voti contrari. Approvati tre emendamenti della Giunta per un contributo all'Università di Firenze per un progetto di studio, risorse del Consiglio regionale, per un contributo per realizzazione di spazi di co-working, richiesta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e un progetto con un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli, per interventi alla rete idrica in località Molinuovo e in via Pian Grande. Respinti emendamenti e ordini del giorno di Fratelli d'Italia, suborsi di studio per il diritto all'Università, per fondi straordinari all'agricoltura e sulle necessità di rivedere il piano di investimenti in tempi rapidi. Approvati anche, sempre con 23 voti favorevoli e 13 contrari, gli interventi normativi collegati alla prima variazione. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430 mila euro per il comune di Palazzuolo sul Segno, per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari, 250 mila euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. Sicuramente purtroppo è un giudizio ancora una volta negativo non ci ha stupito in positivo neppure stavolta la Giunta si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in Commissione la prima che è l'aumento della pressione fiscale è innegabile benché ci venga passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo Paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura sostengono il PIN nazionale ancora una volta si fa una scelta ben precisa oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è regato a una partita IVA ma avrà una trattenuta del 43% e un addizionale regionale più alta questo è il quadro su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450.000 euro su questo avevamo cercato di neutralizzare proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato laddove è previsto A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF degli scaglioni così come delle tariffe per noi è un elemento importante non era il momento di aumentare le tasse siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale questo è positivo nelle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il carbo bolletto diventa insostenibile la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane Prima variazione di bilancio del 2022 tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? che le preoccupazioni della regione sono da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici siamo allibiti da tutto questo in realtà non si tratta di un aumento delle tasse peggio ancora si tratta dell'aumento della liquida regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno si tratta dei soliti 145 mila 150 mila circa cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori le partite IVA le ditte individuali i baristi gli storatori i liberi professionisti gli avvocati i commercialisti cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF gli aumenta le tasse e dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge beccattini cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato perché magari come presidente percepisce troppo poco noi siamo sconcertati dal vedere in questo momento storico le preoccupazioni di chi governa oggi la regione toscana siano garantire l'aumento dello stipendio dei manager pubblici e mettere di nuovo le mani in tasca a quei 150.000 cittadini toscani che guadagnano tra 50 e 55.000 euro lordi all'anno Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia nell'impostazione nel contenuto siamo molto perplessi perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco ma qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto anche perché l'adeguamento alle aliquote che le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale altre regioni hanno perseguito questa strada in più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana anche per oggi non si vola il Pegaso non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra e poi lo voglio dire proprio chiaramente quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria ecco quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria invece constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria ma di carattere manutentivo cioè servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento delle situazioni che devono essere cambiate questo non ci convince come modo di fare lo riteniamo poco rispettoso anche nei confronti dei toscani quindi ecco nella forma nella sostanza ecco anche nella pochezza proprio questa prima variazione non ci convince affatto questa variazione di bilancio è incomprensibile innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo è anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari assolutamente io vorrei intanto rincuorrare tutti per cui c'è un aumento del prelievo fiscale perché abbiamo assistito e stiamo assistendo a un dibattito surreale forse anche perché siamo il giorno successivo alla primavera ma di fatto c'è un aumento della tassazione in questa regione molto probabilmente non sarà che il primo chiaramente si fa un dibattito su chi si va a toccare su quali redditi si vanno a toccare si presuppone che i redditi sopra 50.000 euro non siano gravati da altri prelevi fiscali ma in realtà quello che si va a comporre con questa variazione di bilancio è tutta una serie di interventi che hanno una loro razio e che i fratelli d'Italia ha affrontato costruttivamente in alcuni casi votando a favore in alcuni casi astenendosi in alcuni casi chiaramente dando nel complesso un voto contrario a quella che è una manovra che non ci convince per due ordini di motivi la prima perché non va assolutamente a toccare tutto il malcontento che viene vissuto dalla comunità toscana sia a livello imprenditoriale che delle famiglie e poi chiaramente perché nel suo complesso non fa che essere una variazione che non ha nessun tipo di strutturazione e organicità e ci fa credere che durante il corso dell'anno ricorreremo probabilmente ad altri prelievi che ci aspettiamo di poter chiaramente poi controllare e dibattere in aula per quanto riguarda Lucca voteremo a favore il gruppo di fratelli d'Italia voterà a favore per quanto riguarda un incremento ulteriore della spesa del ponte sul Serchio sono 3,4 milioni di euro in più beh che dire è giustificato dall'aumento delle materie prime c'è una gara che si è bloccata però i duchesi devono consolarsi dal 2014 che aspettiamo un ponte figuriamoci se ne aspettavamo due aspettiamo un ponte che non si materializza ancora che cresce nei costi anno dopo anno che adesso costa ulteriormente di più per il rincaro delle materie prime speriamo veramente ormai diventato un refrain di Fratelli d'Italia a Lucca che sia la volta buona per Lucca e per i lucchesi regione toscana il consiglio regionale di Fratelli d'Italia